a Per altri ragazzi sono l'orenzo per 35 doggiamo un nuovissimo video oggi siamo un nuovissimo gioco esame youtubers life la vita dei youtuber e vediamo come youtuber guardano i big money a un poco creiamoci il nostro personaggio andiamo a vedere i caratteri diciamo ci mettiamo un bel ciuffo tipo questo molto ardio mettiamo marroni perché non si capisce sono marroni occhi castani vediamo un po' gli occhi castani dove sono ah giù ci sono gli occhi castani questi quasi vanno bene la bocca questa va benissimo la barba non ce l'abbiamo quindi lasciamo così ho un bel cappello no rimaniamo così con questo ritmo di questa canzone oh figo è stata la mattina però non ce la mettiamo ci andremo a mettere questa ma quanto siamo fighi ragazzi ma quanto siamo fighi ci mettiamo i pantaloncini corti però non ci sono tipologici corti quindi lasciamo questi le scarpe invece di redditi queste qua oddio che figata raga e poi gli occhiali o le la nostra personalità allora superstar oddio raga social andiamo a vedere un po' gaming assolutamente anche perché assoluti bloccati allora il nostro nome Lorenzo ok e il nome del nostro canale ovviamente il famosissimo e non dimenticate il trattino base ok ragazzi questi siamo noi guardate quanto siamo fieri e andiamo a fare subito il nostro primo gioco ehm let's click to highlight itself choose game andiamo a vedere un po' che giochi ci abbiamo Empire Planet 2 che figata un bellissimo gioco però oddio i vecchi tempi facciamo un gameplay facciamo start video andiamo a vedere un poco per fare big money big money allora webcam video resolution non c'è l'altra definizione non c'è l'altra definizione quindi lo resolution i filtri di microfono non filtri quindi non possiamo fare niente mettiamo monodirezionale e poi ci sono le stazioni quindi basta e raga quindi andiamo subito a fare il nostro primo video lo chiamiamo primo video video vi per vi raga subito per le views raga per chi due buoni raga subito con più di pi più di pi l'essenza di allora vediamo un poco game screen fani comment ok raga c'è un bellissimo fani comment ok io anche amare challenge app expression grande video infatti uno qua su unicolo webcam bellissimo webcam e c'è anche lì là allora da un po' di montare questo video allora mettiamo questo qua mettiamo questo qui poi ci mettiamo il titolo e poi soft focus andiamo avanti e oddio subito con video quality for adding for new level script e basta new level sta anche post produccio ufficio prima video vi più di pi subito a caricare ah sta cazzo di ok di catarro allora siamo anche gli studenti qui ci dice che dobbiamo anche all'andare a scuola e dobbiamo studiare quindi uscire dalla porta uscire dalla porta per studiare quindi let click on your bedroom ok raga noi siamo andati a studiare effettivamente lui già ha figo di studiare nel frattempo ok allora ecco dove cerchino ok dobbiamo ovviamente andare a fare shopping ma da buon youtuber dovremmo farlo al computer cioè quali youtuber non fa shopping dal computer vediamo un po' come si fa shop sul computer ah amazing on figo mi chiamiamo amazon figo mi gusta questa cosa cosa compriamo compriamoci league of giant che costa 30 dollari e carrello e ce lo compriamo tra 8 ore troppo bene poi andiamo su pc world vediamo un po' come migliorare le nostre cose so che non abbiamo accessi ce l'abbiamo risolvito allora vediamo un po' come posso comprare il mouse in questo momento non mi serve una bella webcam poi un bel microfono che è sempre utile e andiamo a shopparli vai ok lentilissimi incredibile il corriere ci manda qualcosa lo apriamo no ho detto di voler aprire il corriere open da un poco oddio subito il nuovo gioco e oddio ancora subito le nuove cose ma quanto è veloce questo corriere raga open ollie la nostra webcam e il nostro microfonino eccolo qui open anche questo boom il microfono fatto andiamo subito a fare un video con le nostre nuove cose choose game e facciamo un video di con il nuovo gioco quindi di league of giant ok start video dai vediamo un poco come verrà questo video allora ovviamente vediamo un po' la webcam sempre le ore resolution microfono sempre no filter orientazioni bidirezionale stavolta prestazioni 1 solo 1 continua vediamo un po' ehm vediamo un poco i giganti per casa aiuto mia sorella musa attaccata anzi vi il vostro caro Dexter è così e andiamo a registrare questo video di league of giant e poi chiudiamo l'episodio davvero figo forse abbiamo prima studiare è un poco io per comare challenge singh in combat perché dobbiamo cantare anche nei video poi qui cosa c'è loading screen with advice facciamo un app un app expression quanti allora mettiamo prima quest'acqua e poi mettiamo quest'acqua qui ci mettiamo una soft focus qua e il titolo attenzione o sette ore diretti a rigottori da prodotto io cazzo di connessione c'è sto dizio fatta poi un level di script attenzione il livello di sound e il livello di post production io pubblici video pubblici video subito per i big money e fate e poi ci abbiamo 146 subscriber subito un altro video raga subito no aspetta ah vorrei scioccarmi qualcosa scioccare qualcosa computer is working ah sorry raga voglio andiamo a studiare raga perché abbiamo il nostro esame vediamo un po eh test di sei il 31 eh segui dobbiamo studiare raga abbiamo anche degli amici che abbiamo Henry invitiamo Henry a casa che ci facciamo un bel video insieme e una bella collaborata Henry eh choose game e fatelo qua eh abbiamo quattro like e un dislike eh mamma fatmi non me ne putto un cazzo di quello che dici perchè io devo fare i video perchè voglio i soldi raga soldi video youtube dai venite temp jobs si col cazzo allora eh non filtri assolutamente non filtri perchè noi non abbiamo filtri ne siamo mancano bidirezionale stazione 1 vai vai la gai così eh 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 sorella eh eh di eh di Harry Potter saluta Garibaldi eh 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 come l'ho scritto vai facciamo il video e c'è anche lui in casa con noi che ci aiuta vai nel frattempo ci hai detto due iscritti e 316 visualizzazioni incredibile eh eh murderous look e adesso mettiamoci anche ehm un 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 altro murderous look perchè non lo so perchè un altro murderous look next vai next vai next un 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 subscribe pubblici video pubblici video quante visualizzazioni andiamo a fare compiti perché è anche arrivato il momento di studiare e poi dopo andiamo anche a lavoro oddio nel frattempo entrano persone in casa una tizia in casa nostra ma non entrare più per le prossime tre ore che abbiamo da fare una cosa altri mi grazie oddio raga nel frattempo 1400 1500 visualizzazioni siamo rientrati raga e adesso oddio conosciamo questa tizia e ciao amica come stai e ciao grazie mi guarda e si ah ah perché ridono cosa mi è arrivato open oggi raga youtube ci ha inviato qualcosa video non lo so cosa si fa qua i miei miei del long away the ufigo possiamo fare un video di nuovo gioco raga vediamo se questo nuovo gioco ci porta più visualizzazioni no la visione c'era il cuore poi le visualizzazioni no era questo l'altro c'è a quattro stelle quindi anche buono come gioco e risattempo cominciamo a fare big money cominciamo a fare big money importanti nel frattempo c'ho sto cazzo di raffreddore vai ragazzi ci stiamo ancora oddio allora vediamo un po bidirezionale ma era così ma così guarda nel 30 mila allora speciale speciale mille iscritti di illumina di 3 e di e e e e e modè ora se questo video non può visualizzazione o picca tutta youtube poi così ma che c'è anche il nostro amico qui ad aiutarci alla game screen facciamo un app expression perché dobbiamo essere simpatici scritte due grande lo scritto in tutti i giochi attenzione mar dello slug perché il mar dell'uso c'è sempre non vi spiacchiti c'è sempre il frattempo 1145 oddio saremo sempre di più vediamo prima questo mettiamo questo permettiamo questo questo mettiamo questo come mettiamo questo sei ore di rendering 8 ore di upload oddio raga guardate perciò 78 nel record 20 nel record editing oddio sei di livello oddio soldi infiniti pubblici video boom nel frattempo vediamo qualche commento promuoviamo accetto in che spesi sono morti lega però questo continuo a fare un sacco di soldi quindi è utile voglio fare un po di show to go shopping e non posso fare qualcosa a questa carica del video al fatto speciale 100 iscritti mi spiegare mi iscritti sorri computer risulti ma forza bene allora raga andiamo a lavorare poi chiudiamo l'episodio work vediamo chi città che soldi questo quattro ore 20 dollari di così ci compriamo qualcosa di nuovo di solito risoloso risoloso risolvere di solitario ii ho appena di e chi è sai e mia sorella e mia madre l'uomo sui di arello un molto scritto bene tra l'altro che portano risoluzioni e ciò che questo video e web e lo avevo sbloccato il saluto figo ciao ciao riga professional commenta attenzione i video si fanno ancora più lunghi agli e boom ma ma mamma mia raga mamma mia che figata se volete altri episodi di sto gioco scrivetelo nei commenti e spolliciare soprattutto perché a me sinceramente sta piacendo molto il titolo vede colla e palle 10 ore di rende io 96 di un record toccato a video quali di 15 a cazzo alle pubbliche video vai così vai così accetto cosa ci riesce da qua grazie 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 grazie